Grazie a tutti. 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 Allora, sorridente, serra stretta, campionato italiano, come è andata questa gara? Primo di classe e primo di classe e primo di gruppo. Giusto per... Dopo, dopo tanti problemi, siamo riusciti a farcela, per un pelo, ma ce l'abbiamo fatta. E' la bandiera, è la bandiera, è la bandiera, è la bandiera... Quindi anche per il tuo, quindi, è la bandiera, è la bandiera, è la bandiera, è la bandiera. Passo alla classe 1004 del gruppo 1 Italia, terzo classificato Fallara Bruno, secondo classificato Bisogno Marcello, primo classificato Gangemi Domenico. Grazie a tutti.